Oggi apertura Cioè No ragazzi Mancano due minuti ma Gaby Gaby si dice Gaby 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 Ha fatto il terzo gol Eh te credo Dopo che hanno fatto i due grismanno Aspetta fammi dare una sistema dei capelli Guarda che cazzo Guarda che schifo Sono appena tornato dalla palestra Ma che cazzo volete Marsiglia Atletico De Madrid 0 a 3 Ma vogliamo dire Non c'è niente da dire Sul risultato non c'è niente da dire Ma sulla sfortuna del Marsiglia Er palo De Mitrogl Mitraglietta Mitraglietta Sì ma stavano già sul 2 a 0 Stavano già sul 2 a 0 Il Marsiglia a mio parere Era partito col piglio giusto Con la cattiveria agonistica giusta Poi arriva L'errore De uno dei giocatori del Marsiglia Che tra l'altro Garzia aveva detto È un giocatore che pecca Un pochino di personalità Ogni tanto va ripreso Perché appunto Commette qualche errore A livello Magari ci mette poco la gamba Ok a sto giro Ha fatto l'errore Che ha consentito a Griezmann A disegnare il gol del 1 a 0 Poi l'esultanza Ne vogliamo parlare? Ma sì Vabbè Perché sul secondo gol Che ha fatto Si è fatto la L in fronte E va bene E va bene Poi ha fatto il secondo gol Parliamo del secondo gol Ragazzi Perché c'è lo scavettino Mamma mia Che libiti È veramente Ha fatto veramente un bel gol Un bel gol Ma voglia Guarda che bel gol De Gabi Un gol Gaio Aggiungerei Io ho visto Solo il secondo gol Perché nel primo gol Ancora non tornavo Che stavo in palestra Il secondo Ho visto E il terzo stava a mangiare E va bene Però ragazzi Io ho seguito Tutta la partita L'abbiamo detto Che vince l'Europa Fic L'Atletico de Madrid Alla fine ha vinto Quella più quotata Quella più quotata Come era ampiamente prevedibile Cioè comunque Non era facile Andarsi a giocare La partita col Martini Perché come è Eccola è finita No che ne so Dio Non è ancora finita Quindi secondo te Meritava di vincere l'Europa Liga Alla fine dei fatti Assolutamente sì Ecco dai Stanno già festeggiare E fischia Ecco ha fischiato L'infortunio però De Pagliere Ripeto Secondo me Tante concatenazioni Che hanno un minimo Hanno minato sicuramente Quello che è l'andamento Della partita Tra l'altro Pagliere rischia Anche il mondiale Perché c'ha avuto Un problema A livello muscolare Però ragazzi Io vorrei fare un elogio A Simeone A Simeone E a quello Che ha fatto diventare Cioè è solo grazie a lui Che l'Atletico Madrid Si ritrova Assolutamente sì Di nuovo Sul tetto d'Europa Perché ragazzi Emo che sia Europa League Che sia Champions Daccela a noi Tifosi da Roma Ne Europa League Io la vincerei tutti gli anni Io penso che festeggiamo Festeggiamo Da oggi Perché in teoria Avremmo dovuto vincerla oggi Visto che oggi Era la finale Per otto anni di fila Come è successo Con Scudente Mamma mia davvero Cioè Due anni dopo Mamma mia Cioè non bastava mai No vabbè Vince comunque L'Europa League Ragazzi Comunque Dicevo dell'Atletico Da quando è arrivato Simeone Si è completamente Trasformato A rivoluzione Tra alti e bassi Perché ultimamente Insomma Dalle finali De Champions League Alti e bassi Un par de palle Intanto Ha vinto Questa è la terza Europa League Che vince Se non me sbaglio È arrivato Due volte In finale De Champions Che ha perso Entrambe le volte Purtroppo Contro i cugini De Real Madrid I cugini De Campagna Ha vinto Un campionato Spagnolo Contro il Real Madrid De Cristiano Ronaldo Il Barcellona Luca Toni Luca Toni Luca Troni C'ha un po' Rotto No Parliamo secondo me Una trasformazione Una cosa Impressionante Cioè secondo me La squadra Che meglio ha fatto Meglio si è rivoluzionata Negli ultimi 20 Ma ha creato Un nuovo modo Di esprimere Il calcio Noi stiamo parlando Di un maestro Tra virgolette Perché è ancora giovane Che ha creato Un nuovo modo Di giocare Al calcio Non sempre quelli Che fanno Il maggior possesso palla Vincono E lo ha dimostrato Ti lascia giocare Ma si copre Talmente bene Che poi Quando riparte In contropiede Gli basta Quel giocatore Là davanti Che però Forse non sai Ma non è quel giocatore Là davanti Perché ce n'ha avuti Ce n'ha più di qualcuno Li ha girati In tutti questi anni Che è sempre Riuscito a trovare Qualcuno da valorizzare Cioè comunque Il fenomeno Lui non ce l'ha mai avuto Sotto mano C'ha avuto Chris Ma non è che ha dovuto Allevare Che comunque è un ottimo giocatore Diego Costa è cresciuto Sotto di lui Falcao L'ha fatto diventare Un bomber assurdo Se non sbaglio Forse Aguero Forse era già andato via Mo' sta cosa Mi sfugge Parliamo di troppi anni Indietro con la memoria Mi inganna Però comunque ragazzi Ha rifatto Ritorna in vita Fernando Torres Ma Griezmann Che sembrava un giocatore Completamente perso Perduto Griezmann Non ne parliamo ragazzi No ma Griezmann Che mo' la clausola Da 200 milioni Scende a 100 È molto Lasciamo L'avevi letta sta cosa No la sapevo Dovrebbe scendere La sua clausola Rescissoria Da 200 milioni L'ho letto stamattina Oggi pomeriggio Dovrebbe scendere Da 200 a 100 milioni Nei prossimi giorni Se stanno Se stanno ammazzando L'ultima cosa Su Simeone voglio dire E poi chiudiamo il video Se mi dovessero Fasceglie Tra un Guardiola Per esempio Tutto Tichitacca Un Simeone Sceglierai Simeone tutta la vita Per il tipo del gioco Io sinceramente Io so così Ma guarda Io so più pane pane Vino al vino Lui è per lo 0 a 1 E tutti a casa E abbracciandosi So tre punti A me piace il gioco spettacolare Ma stasera Abbiamo vinto 3 a 0 Però Cioè Vuoi mettere però Cioè Se oltre a quello Che dico io Ci metti pure Un minimo del bel gioco Che fai 2-3-4 gol Ogni tanto Incisività Incisività Perché comunque Non è che ha fatto mille Sì Ha sviolinato De Garzia Che sta a giocare Con Oddio Non volevo Non era Gli riferimenti a quello Ma detto questo Ci fate sapere Che cosa ne pensate Nei commenti Secondo voi La fine dei fatti L'Atletico Madrid Meritava questa Europa League L'anno scorso Vi ricordiamo Che l'ha vinta Un certo Manchester United Vi ricordiamo pure Scusate Che l'Atletico Madrid Uscite in gironi Contra la Roma Quindi se andavamo Noi in finale Meglio